al cielo, alle nuove generazioni. Grazie e vorrei innanzitutto ringraziare il confratello, l'arcivescovo e il vostro arcivescovo per avermi voluto qui questa sera. Ci sono anche perché mi ha invitato, non è che non sono mai voluto venire. Ho trovato il tempo adesso che sono un po' scadente in quanto sono scaduto, ma in ogni caso sono sempre il rettore dell'università per il momento. E così saluto con grande affetto anche l'altro confratello Emerito che vedo con particolare piacere dopo tanti anni. Vorrei dedicare queste poche povere riflessioni che ho fatto sul tema della teologia della Chiesa locale ai professori emeriti proprio per indicare loro la gratitudine che tutti insieme noi abbiamo per essere stati in così tanti anni delle pietre miliari con la loro ricerca, con il loro insegnamento nella formazione teologica di tanti sacerdoti e di tanti laici. E vorrei, visto che ho la parola, anche congratularmi per questo volume che è stato, questa miscellanea che è stata offerta, Mistero e Misteri, di fatto il titolo stesso coglie quello che è la dimensione originale della teologia e la capacità di poter avere un itinerarium mentis in misterium perché Dio è il mistero per eccellenza. E quindi davanti a questa dimensione essere sempre capaci di avere la consapevolezza dinnanzi a noi che siamo sempre dinnanzi a un mistero, ma il mistero non umilia la ragione. Il mistero, quando è tale, provoca la ragione ad andare sempre di più all'interno per comprenderne la portata, l'efficacia, la fecondità, ma anche per poter dire poi con le parole di Anselmo, Razionabiliter Comprehendis Incomprensibiles, che con la ragione, con tutto lo sforzo che la ragione può fare, raggiungi realmente la consapevolezza della incomprensibilità. non della non conoscibilità, ma della incomprensibilità, che sono due espressioni che dicono nella stessa semantica qualcosa di ben diverso. Accogliamo anche con tanto piacere il professore Gregoire, che è arrivato adesso. Benvenuto. Approfitto anche per segnalare un'occhiatina al cellulare di tutti noi qui presenti. Grazie. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, lui, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu sarai salvato. Cari amici, il teologo dovrebbe ben sapere, soprattutto in questo particolare momento storico, cosa significano per il suo ministero e il suo lavoro queste parole del profeta Ezechiele. La tentazione di voler essere accolti nel contesto odierno di generale tolleranza, che tende a rendere tutto opinione, potrebbe far cadere anche il teologo nel grave rischio di un offuscamento della verità centrale che invece noi siamo chiamati a servire. Se questo avvenisse ne deriverebbe una teologia debole, perché non più accompagnata dalla forza di una ragione retta che si fa forte della verità rivelata. Ma sarebbe anche una teologia sterile, perché è incapace di raggiungere il senso profondo del mistero, quel mistero che è in grado di portare luce alla domanda di senso dell'uomo. Non è compito della teologia convertire le persone. chi cambia e trasforma è la grazia di Dio. Ad essa, però, bisogna dare supporto, perché inserendosi nella vita umana la grazia ha bisogno di mediazioni che ne permettano la comprensione e la comunicazione di quanto essa rende efficace. A mio avviso la teologia si inserisce in questo plurimo e diversificato cammino della fede e da parte sua contribuisce a dare intelligenza di quell'atto che noi compiamo, l'atto di fede, perché possa essere sempre un atto libero e personale. Se non ci fosse la teologia che dà intelligenza alla nostra scelta di fede, noi saremmo soggetti a una irresponsabilità, perché la scelta che compiamo non sarebbe mai una scelta autenticamente libera. Dall'altra parte, noi dobbiamo trovare le forme che sono adatte per permettere di comprendere la necessità della conversione e quindi mostrare quali sono le vie per poterla raggiungere. La teologia, quindi, in questo particolare momento storico, è chiamata a svolgere a pieno titolo una diaconia di intelligenza a servizio della verità, perché i credenti, in modo particolare oggi, siano accompagnati da una ragione forte nella loro scelta di fede e quindi possano esprimere, secondo l'espressione di Prima Pietro 3,16, con mansuetudine e bontà, la ricchezza della speranza cristiana, in un linguaggio carico di senso, ben consapevoli della necessità appunto di rendere la propria scelta una scelta consapevole e quindi libera. Ma diventa particolarmente urgente rispondere alla domanda circa il valore e il ruolo che la teologia compie all'interno della vita di fede e della Chiesa in particolare. Nessuno, a dire il vero, metterà esplicitamente in dubbio il valore della teologia e la necessità della teologia per la fede. L'obiezione, però, trova spesso canali di contestazione molto più sofisticati. Di volta in volta questi comportano l'esclusione della teologia dalla sfera pastorale, la sua marginalizzazione nei luoghi di progettazione, in molti casi la sua riduzione a un momento obbligatorio di preparazione al sacerdozio o all'insegnamento. Un momento che spesso, abbiate la pazienza, ma non voglio offendere nessuno, sembra più sopportato che vissuto con entusiasmo come invece dovrebbe essere, perché solo attraverso la fatica dello studio si può entrare all'interno del mistero e un giorno rendere in maniera efficace partecipi quanto saranno destinatari della nostra cura pastorale. Lo studio della teologia, infine, non può essere solamente un certificato per approdare a un insegnamento che assicura e dà certezza la fine del mese. Porsi la domanda sul rapporto tra teologia e Chiesa locale, a mio avviso significa anzitutto evidenziare il ruolo positivo che la ragione gioca all'interno dell'intelligenza della fede e della pastorale. Io cioè non credo, ve lo dico con tutta tranquillità, non credo che ci possa essere una pastorale efficace, perché la pastorale è l'azione peculiare che la Chiesa pone in essere. Non credo che ci possa essere una azione pastorale efficace, cioè che produce, se manca una intelligenza che è data in primo luogo dal sapere teologico. È per questo motivo che la teologia ha pieno diritto di interrogare anche oggi, perché vive un contesto differente del passato e perché le ragioni che oggi si devono porre hanno bisogno di una risposta che sia coerente con gli interrogativi del nostro contemporaneo, che non è quello di vent'anni fa e sarà soprattutto quello che noi dovremo pensare nei prossimi dieci anni. Quindi noi non dobbiamo soltanto pensare con uno sguardo retrospettivo, noi dobbiamo essere lungimiranti e nella lungimiranza dobbiamo cercare di capire quelli che sono gli adolescenti di oggi o quelli che sono i bambini che oggi vanno a scuola elementare, che cosa sarà di qui a vent'anni la nostra capacità di essere capaci di dare una proposta quale la proposta cristiana. Una ragione che avesse rinunciato a interrogare sulle questioni contemporanee non avrebbe più senso perché equivarebbe a vivere dell'ovvietà, del ripetere continuamente le stesse identiche cose, gli stessi identichi progetti e come tale, mi permetto di dire, non servirebbe neanche alla fede. Ma la vita della Chiesa è direttamente coinvolta in questo processo. Una comunità che vive intensamente la presenza del suo Signore e ha speranza in Lui, ha bisogno di dare ragione sempre a chiunque e nonostante tutto per mantenere fermo il comando di Prima Pietro 3,15. Siate sempre pronti a dare ragione della speranza che è in voi a chiunque ve lo chieda. La ripetitività dei contenuti, che non portasse con sé il rinnovamento del linguaggio concettuale e comunicativo, finirebbe per cadere nella monotonia e da qui nella indifferenza e nella insignificanza. Verificare il ruolo che gioca la teologia, pertanto, obbliga in primo luogo la Chiesa a saper guardare dentro se stessa, per cercare di comprendere le ragioni del suo rimanere fedele alla missione che il Signore le ha fidato. Nello stesso tempo impegna la Chiesa all'attenzione costante verso il proprio contemporaneo perché ci osserva, ci giudica e, anche se di rado, ci interroga. Così dicendo, comunque, si evince che in primo luogo, quando parliamo della teologia e del suo ruolo nella vita della Chiesa, non stiamo parlando in primo luogo di un teologo o di alcuni teologi o di alcuni professori di teologia, ma stiamo parlando in primo luogo della Chiesa stessa. Il primo soggetto che fa teologia è la Chiesa. Posta dinnanzi al mistero che la pone in essere e la mantiene in vita, la Chiesa nel corso della storia cerca perennemente l'intelligenza perché ciò che crede possa essere celebrato, vissuto e trasmesso come un annuncio di salvezza che sa raggiungere tutti, senza nessuno escludere. La teologia che la Chiesa opera è quell'intelligenza perenne che di volta in volta si esplicita nel corso dei secoli attraverso l'esplicitazione del dogma e della dottrina che da sempre, da tutti, in ogni luogo, è stata creduta, per riprendere la bella espressione di San Vincenzo di Leren. Ma questa riflessione, che poggia sul fondamento stesso del deposito della parola di Dio, appartiene all'immutata tradizione della vita ecclesiale. È prioritaria a ogni altra riflessione che nella Chiesa viene fatta sul dogma. Ecco perché a buon diritto e coerentemente può essere chiamata teologia, perché risponde all'interno originario del dover dare sempre ragione della fede. Una Chiesa che non producesse una simile teologia non avrebbe futuro, in quanto direbbe di avere raggiunto la pienezza del mistero e la sua intelligenza definitiva in maniera solo parziale. All'interno di questa teologia, che realmente forse è l'unica che può essere detta che possiede le note della ecclesialità, perché io ritengo che una teologia in primo luogo si qualifichi anche per essere ecclesiale, a differenza, ad esempio, questo ci differenzia da una teologia che è fatta in casa evangelica, ad esempio, in casa protestante, che non necessariamente ha la nota dell'ecclesialità, ma una teologia cattolica si qualifica per essere una teologia ecclesiale. Questa teologia, che a pieno titolo, ribadisco, possiede la nota di ecclesialità, all'interno di questa sorgono successivamente le teologie. Le teologie che permangono come momenti storici di riflessione della rivelazione nei differenziati contesti storici, culturali e ambientali. Ritengo che a questo punto il primo compito che compete alla teologia e alla Chiesa sia quello di mantenere sempre viva la parola di Dio. Io, quando ho visto il titolo che mi avete affidato la teologia nella Chiesa locale, mi sono domandato ma che cosa deve fare la teologia nella Chiesa locale? Io, sinceramente, non trovo altra risposta, alla luce di quanto detto fino adesso. La teologia nella Chiesa locale deve mantenere sempre viva la parola di Dio. In Seconda Timoteo 2,9 troviamo scritto che la parola di Dio non è incatenata. L'Apostolo scrive al suo successore Timoteo, lo ha lasciato nella Chiesa di Efeso, ma gli ricorda la sua condizione personale. Paolo si trova in catene a causa dell'annuncio del Vangelo che ha compiuto. L'Apostolo, nonostante questo, trasmette a Timoteo l'immagine di un Apostolo che non può e non deve fermarsi dinnanzi a nulla pur di annunciare il Vangelo. Ogni successore dell'Apostolo, infatti, con l'imposizione delle mani, dice Paolo, ha ricevuto non uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore, di saggezza. Nessuno quindi può vergognarsi della testimonianza che deve dare in primo luogo al Signore. È sempre Seconda Timoteo 1,8. Ora, questo annuncio vivo perenne del Vangelo che lui ha fatto dal giorno della sua chiamata all'Apostolato, lo trasmette a Timoteo, cioè alla Chiesa che egli presiede, perché ne continui la stessa predicazione. E infatti dice al capitolo 2, Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali siano in grado a loro volta di ammaestrare anche altri. È interessante, amici miei. Mentre Paolo, dal carcere, in catene per il Vangelo, soffre e ha dinanzi a sé la morte imminente, nonostante questo, continua ad annunciare il Vangelo e a preoccuparsi della trasmissione viva e fedele. Insomma, la parola di Dio continua ad essere libera ed efficace, nonostante l'Apostolo sia incatenato. Il discepolo può soffrire, il discepolo può morire, ma la parola di Dio permane con la sua forza e con la sua efficacia che la rendono libera e operante senza conoscere alcun confine o limite che gli uomini le possano opporre. In altre parole non può essere fermata da niente, da nessuno, però non può rimanere inoperosa o inefficace per l'ignavia, dei discepoli dinanzi alla persecuzione o per la violenza di quanti ne vorrebbe o contrastare la ricchezza. Per usare le parole della lettera agli ebrei, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito delle giunture, delle midosla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ora, questo scenario mi permette un po' più da vicino di verificare alcune caratteristiche che nel contesto attuale possono essere importanti soprattutto per riandare a quel magnifico documento del Vaticano II che è la Dei Verbum. Per quanto possa valere il mio pensiero, ritengo che in questi poco più di quarant'anni dalla pubblicazione della Dei Verbum, molti passi siano stati compiuti, eppure il cammino per far emergere in pienezza l'originalità e la ricchezza di quelle pagine è ancora molto lungo da fare. Certamente la Bibbia è stata riportata nelle mani dei fedeli. Il Libro Sacro è uscito dal cono d'ombra in cui era stato relegato. La ricerca teologica nei decenni precedenti, lo sappiamo, si attardava più volentieri sull'argomentazione filosofica. Alla scrittura riservava il ruolo di dicta probanzia. Oggi abbiamo ritrovato un rapporto privilegiato con la parola di Dio. Da questa prospettiva, quindi, l'invito dei padri conciliari certamente è stato colto quando al numero 24 scrivevano «la sacra teologia si basa come su un fondamento perenne sulla parioscritta», inseparabile dalla sacra tradizione. In essa, vigorosamente, si consolida e si ringiovanisce sempre, scrutando alla luce della fede ogni verità racchiusa nel mistero di Cristo, sia dunque lo studio della sacra pagina come l'anima della sacra teologia. Negli anni, quindi, gli studi di Esegesi si sono moltiplicati. Una conoscenza più coerente dei testi permette di giungere a una loro intelligenza più profonda. È vero, non sono mancate purtroppo stonature eclatanti che hanno spinto la scrittura fuori dal contesto ecclesiale, con il grave pericolo di incatenarla alla sola interpretazione figlia di metodi spesso estranei al genere letterario Vangelo e il rischio di cadere in un fraintendimento dei suoi contenuti non è stato affatto fuori luogo. Io ad esempio mi domando spesso, essendo un accanito frequentatore di Agostino, che ne è di tutto quello che, poi qui abbiamo dei maestri, che ne è di tutta quella Esegesi che hanno fatto i padri della Chiesa. Cioè, lontano da me adesso, perché poi so che sono anche circondato da biblisti, lontano da me quindi, ma forse che i padri della Chiesa erano meno intelligenti nel dover cogliere il senso profondo della scrittura di quello che è l'esegesi di oggi? Certamente i passi sono stati fatti, ma c'è un senso della scrittura che è stato colto e che appartiene alla vita della Chiesa. E siccome appartiene alla vita della Chiesa non può essere abolito per una comprensione piena del senso della scrittura. Ed è quello che Dei Verbum voleva, il senso splenior. Il senso splenior, come ben ci spiega anche, avviene attraverso una Esegesi globale, che non si attarda o non si ferma soltanto a una critica letteraria, perché non sarebbe Esegesi. Nella vita dei cristiani la Sacra Scrittura ha ripreso lentamente il suo ruolo fondamentale. Abituati nel passato ad avere della fede una conoscenza mnemonica delle formule del Catechismo, oggi si nota una maggior passione per la bellezza del Vangelo. Ciò non toglie che siano allarmanti e carichi di preoccupazione le diverse indagini statistiche, che in diversi momenti evidenziano come la Sacra Scrittura sia tra i testi più diffusi eppure meno letti. Ho partecipato un paio di anni fa alla presentazione di uno studio proprio su questo tema, condotto sia dall'Associazione Biblica, condotta anche da diversi altri strumenti, dove per la stragrande maggioranza dei cristiani l'unica volta in cui ascoltano la parola di Dio di fatto è la domenica quando vanno a messa. Se è vero, come scriveva, ed è vero, come scriveva San Girolamo, dico è vero perché non sembra tutto quello che dice San Girolamo è proprio vero, perché San Girolamo è un'anima abbastanza polemica, ma che ignoranzia scripturarum, ignoranzia Christi est, allora dobbiamo davvero dedurre che conosciamo molto poco Gesù Cristo. Con dolore dobbiamo constatare che basta un romanzo da quattro soldi per minare la fede di molti e togliere credibilità ai Vangeli. Anche con un po' di sbigottimento, devo dire, creando un vortice per cui poi dopo noi ci sentiamo obbligati a leggere delle autentiche sciocchezze senza che quelli abbiano letto i nostri testi seri di teologia. E quindi che cosa avviene? Cioè io da chi devo andare a scuola per sapere e conoscere Gesù Cristo? E' necessario pertanto che si compia quanto il Vaticano II auspicava come cammino di tutta la Chiesa, che ha sempre, numero 21 di Dei Verbum, ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita, dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo e di porgerlo ai fedeli. Un ritorno alla Dei Verbum da questa prospettiva non sarà comunque inutile, visto che l'ultimo sinodo, ho avuto la grazia di potervi partecipare, ne ha facilitato la ripresa nei suoi contenuti più importanti. E siccome tra poco, insomma, penso che sia questione di qualche mese, dovrebbe uscire il documento a conclusione del sinodo, penso che sia utile ritornare su questo tema. Uno dei dati fondamentali che risultano dalla Dei Verbum e che, ribadisco, costituiscono una originalità dogmatica propria della Dei Verbum è l'aver superato la divisione circa le fonti della rivelazione, come ben sappiamo. Trento e il Vaticano I, come ben sappiamo, si attardavano nella divisione, la scrittura da una parte e la tradizione dall'altra. Dei Verbum compie un passo in avanti, recupera la tradizione patristica e medievale e insegna circa l'unicità della fonte, cioè la rivelazione e la parola di Dio, parola che viene trasmessa mediante la scrittura e la tradizione. Certamente il Concilio parla di scrittura e la identifica spesso con parola di Dio. Ma la stessa cosa, però, viene fatta con la sacra tradizione. Qui c'è un testo chiave che mi sento obbligato a citarvi ed è il numero nove della Dei Verbum. La sacra tradizione e la sacra scrittura sono dunque strettamente congiunte e comunicanti fra loro. Ambedue, infatti, scaturendo dalla stessa divina sorgente, formano in un certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti, la sacra scrittura è parola di Dio, ma il testo latino dice locuzio dei, in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Invece, la sacra tradizione trasmette integralmente la parola di Dio e nel testo latino dice Dei Verbum affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli e ai loro successori affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. In questo modo la Chiesa attinge la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola sacra scrittura. Perciò l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza. Vedete, a me sembra che questa lettura che volutamente ho voluto ripetere sia estremamente chiara Primo la parola di Dio non può essere identificata con la sola sacra scrittura. Io ho iniziato il mio intervento al sinodo dicendo se noi chiediamo a chiunque che cos'è la parola di Dio io sono certo che il 95% mi risponde forse anche il 98% mi risponde la Bibbia. Ma non è così. È ovvio che io leggo la Bibbia anche nell'azione liturgica e poi dico parola di Dio. Ma tutti noi sappiamo il valore fondamentale che ha quel Dio e parola di Dio. Perché? Ma perché sempre il Concilio ci dice che nell'azione liturgica quando si proclama la parola di Dio è Dio stesso che parla. Ma c'è l'identificazione tra un testo e la parola di Dio che invece non può essere fatto. se ciò avvenisse sarebbe un impoverimento ingiusto dell'evento della rivelazione e avrebbe credetemi delle conseguenze nocive per la pastorale e quindi per la vita stessa della Chiesa. Ciò che non è secondario che dice che gli apostoli i loro successori quindi la Chiesa il Vescovo nella sua Chiesa deve fare altro che conservare esporre e diffondere. Quindi è un'azione costante viva dinamica che viene posta in essere. Ciò che emerge da dei verbum è quindi un uso che noi dobbiamo anche fare un retto che dobbiamo fare dei termini. È paradossale guardate però il Concilio usa due termini che tutto indicano tranne che qualcosa sia scritto perché quando dice scrittura dice locuzio ma locuzio è qualche cosa che viene detto locuzio sono io in questo momento che è il mio locuo questa è locuzio e di questo dicono i padri conciliai questa è la parola di Dio scritta è quella che viene che viene continuamente detta e ancora quando i padri parlano di questo di Dio che si rivela dicono che Dio parla e questo parlare è il peculiare della rivelazione non è quello dello scrivere la stessa stregua quando si parla della tradizione cioè della trasmissione del Vangelo dice verbum nell'uno come nell'altro caso siamo sempre con una terminologia che indica una realtà viva in movimento come è tipico della parola ciò non toglie evidentemente il carattere normativo della scrittura che sempre da sempre insieme con la tradizione è la regola suprema della propria fede come dice sempre il numero 21 ma amici miei non cadiamo nella trappola di dover dire che ci sono le tre religioni del libro perché il cristianesimo non è la religione del libro io non lo so chi ha inventato questa espressione ma certamente mi sento di Dio e con tutta la forza che ho in animo che è falsa perché il cristianesimo non è la religione del libro il cristianesimo è la religione della parola e guardate che già Sant'Ommaso io adesso scusate la divagazione ma già Sant'Ommaso non ho qui adesso i testi ma nella summa ho pubblicato questa cosa già Sant'Ommaso parlava dei tre motivi per cui Gesù non ha scritto niente perché era davanti la domanda perché Gesù non ha scritto niente e Tommaso rispondeva Gesù non ha scritto niente perché voleva che la sua parola rimanesse viva perché voleva che la predicazione degli apostoli mantenesse quella parola capace di rispondere sempre a quelle che sono le esigenze di chi l'avrebbe ascoltata quindi pensate già questa realtà ciò che voglio indicare è che questa scrittura vive nella Chiesa e vive della vita della Chiesa che la rende sempre attuale con il suo annuncio che non si stanca mai di riproporla come immutata parola di rivelazione mediante la quale Dio non cessa di fare Dio e la sua voce per introdurre i credenti alla verità tutta intera la parola di Dio pertanto vive di una inseparabile unità che permette di vedere tradizione scrittura magistero come una perenne fonte da cui attingere per conoscere la verità della rivelazione ora questo tratto mostra un fatto a cui credo spesso non si fa riferimento cioè se noi consideriamo questa dimensione di fatto noi siamo dinnanzi alla inesauribilità della parola di Dio cioè il fatto per cui non è solo scritta spalanca le porte per una sua continua insondabile ricchezza che ci riporta nell'oggi nel presente della fede di ogni credente superando ogni barriera spazio temporale che potrebbe inficiarne la forza di senso che quella rivelazione possiede vorrei citarvi un brano che mi piace molto ed è quanto mai significativo in proposito chi è capace di comprendere o Signore tutta la ricchezza di una sola delle tue parole è molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere siamo proprio come gli assetati che bevono a una fonte la tua parola offre molti aspetti diversi come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono ha nascosto nella sua parola tutti i tesori perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla la sua parola è un albero di vita che da ogni parte ti porge dei frutti benedetti quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre a ciò che ha trovato si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre e dopo essersi arricchito nella parola non creda che questa venga da ciò impoverita incapace di esaurire nella ricchezza renda grazie per l'immensità di essa rallegrati perché sei stato saziato ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi colui che ha sete è lieto di bere ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte è meglio che la fonte soddisfi la tua sete piuttosto che la sete esaurisca la fonte se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno se invece saziandoti seccassi la sorgente la tua vittoria sarebbe la tua sciagura ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato quello quello che hai preso o portato via è cosa tua quello che resta è ancora tua eredità ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza ricevilo in altri momenti per la tua perseveranza non avere l'impudenza di voler prendere in un solo colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po' alla volta vedete chi scrive queste parole è uno dei più grandi dei padri siriaci probabilmente come qualche d'uno lo definisce il più grande poeta dell'età patristica Sant'Efrem il diacono un santo diacono che dal giorno del suo battesimo a 18 anni dedicò tutta la sua vita alla catechesi allo studio della teologia io credo che questa memoria dovrebbe rimanere viva se non altro per queste righe che abbiamo letto ma Efrem scrive grandi opere sulla cristologia sulla mariologia certamente ha contribuito al progresso del dogma eppure vedete ciò che proviene da questa pagina penso è quanto la chiesa ha sempre capito nel suo rapporto con la parola di Dio più essa vive di questo mistero e sempre di più è inserita nella ricchezza che la parola di Dio possiede ma è proprio da questa inesauribilità che la parola di Dio può essere annunciata in ogni parte della terra in tutte le culture con cui viene incontrarsi e può ravvivare la vita di ogni credente che se ne fa cibo spirituale e ne dà testimonianza concreta nel mondo questa caratteristica altro non è che azione dello spirito che nel corso dei secoli ravviva la forza di questa parola ne permette una comprensione sempre nuova più profonda e così consente che la parola di Dio corra dei verbo un 26 conclude proprio con questa espressione di Paolo la parola di Dio corre non solo non è incatenata ma corre non so se avete mai pensato è bellissima questa metafora la parola di Dio corre va da per tutto là dove noi non riusciamo neanche a poter di stare dietro la centralità della parola di Dio quindi in riferimento alla Chiesa ecco perché come faccio in questo caso a non citare l'inizio della dei verbum in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia il Sacro Santo Sinodo aderisce alle parole di Giovanni il quale dice vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi quello che abbiamo veduto udito noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi religiose audience dice il testo originale religioso ascolto e non non poteva essere altrimenti ciò che emerge dinnanzi alla parola di Dio è il silenzio dell'ascolto che la Chiesa e ogni credente è chiamato a porre dinnanzi alla rivelazione la prima reazzovuta è l'obbedienza della fede che sa accogliere in sé non solo il contenuto di quanto Dio rivela ma anche il significato profondo che le viene offerto rivelando il mistero della sua esistenza personale Dio apre alla vita di comunione questa è la verità profonda della rivelazione solo chi accoglie il logos ha familiarità con la parola di Dio e quindi ne può diventare annunciatore veritiero e credibile ecco perché Paolo può scrivere gli efesini che non siamo più stranieri né ospiti ma con cittadini dei santi e familiari di Dio Efesini 2 19 la comunione che si viene a creare è dono è offerta di salvezza e non può essere pensata né limitata al solo versante della relazione con Dio ecco perché impegna in prima persona la Chiesa a vivere dell'unità per essere segno di essere nata dal costato del figlio mi sembra che sia questo quando l'Umengenzium 9 dice che è piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun legame fra loro ma li ha voluti costituire in un popolo ecco la Chiesa chi è la teologia a questo punto oltre ad averci aiutato a riflettere fino a questo punto se io ho detto queste cose penso di averle dette come teologo cioè perché ho riflettuto ho cercato di dare intelligenza a quello che leggevo nella dei verbum o in quello che leggevo vedendo intorno a me quindi tutto quello che ho detto fino adesso l'ho detto da teologo ecco come la teologia può servire ora la teologia oltre ad averci aiutato a riflettere fino a questo punto ci permette però di andare anche oltre e di osservare che una parola che viene rivolta ha anche diverse richiede diverse reazioni io ne ricordo brevissimamente tre perché stanno alla base della vita della Chiesa il primo consiste nel dover narrare la parola di Dio racconta le diverse vicende che sono l'evento della nostra salvezza ma la narrazione non è una tecnica letteraria mentre la parola di Dio narra la storia della salvezza nello stesso tempo coinvolge l'interlocutore ecco perché dobbiamo essere capaci di partecipazione alla vita della Chiesa altrimenti ci sarebbe una separazione tra l'evento della rivelazione e la mia vita personale sarebbe una vita estranea alla rivelazione e quindi mi priverei del suo carattere salvifico il valore narrativo della parola di Dio non impedisce di vedere la dimensione normativa che ha per la vita della Chiesa e quindi da questa prospettiva pensate tutto quello che è l'azione ad esempio della catechesi io temo che una povertà teologica sia poi alla base di una povertà catechetica ed è inevitabile se c'è una forza teologica ci sarà anche una catechesi molto forte altrimenti temo che corriamo soltanto il rischio di una catechesi esperienziale io non dico che la catechesi non debba essere esperienziale ma non può limitarsi alla sola azione esperimentale e esperienziale così come ad esempio non so siamo qui per riflettere insieme ma io credo che dovremmo anche riflettere su quello che è il fatto di fare una catechesi prevalentemente sacramentale se io faccio una catechesi soltanto per la prima comunione soltanto per la cresima soltanto per il battesimo soltanto per il matrimonio e tutto il resto cioè l'intelligenza che io debbo avere della parola di Dio in relazione alla mia vita dove va a finire un secondo elemento consiste nell'evocare ed è tipico del linguaggio liturgico che si trova dinanzi al mistero per comprendere il limite delle proprie parole l'impossibilità a poter pronunciare tutto ma qui sorge la consapevolezza di evocare cioè di mettersi maggiormente nel linguaggio dei segni che esprimano ciò che le parole non possono dire in tutto ecco perché il parallelo tra la sacra scrittura e l'eucarestia che avevo fatto prima parla di quel nutrimento della parola di Dio e da ultimo l'effetto della performatività il linguaggio performativo vedete per sua natura è un linguaggio che quando viene pronunciato obbliga il soggetto ad essere coinvolto è compromesso con le parole che ha detto la parola di Dio è per sua essenza un linguaggio performativo Dio disse e fu il pronunciare di Dio è l'atto con cui crea la performatività della parola di Dio coinvolge nel diventare sempre di più discepoli che si mettono alla sequela Cristi concludo così quel Dio che ha parlato in passato non cessa di parlare con la sposa del suo diletto figlio e lo Spirito Santo per mezzo del quale la viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di essa nel mondo e guida i credenti alla verità tutta intera ed è il verbum al numero 8 credo che non potevo trovare conclusione probabilmente più coerente per quanto abbiamo cercato di esporre per immettere successivamente in qualche cosa a cui ho solo accennato cioè l'istanza veritativa della parola di Dio perché a questo punto in un periodo come il nostro di piena frammentarietà di quello che è il tema della verità che la parola di Dio esprime dovrebbe essere per noi una provocazione non da poco perché solo a questa condizione possiamo percepire quello che è la novità che ci viene data dalla parola di Dio che può venire solo dalla parola di Dio e non da una riflessione che gli uomini compiono arriviamo quindi alla consapevolezza che quando ci poniamo dinnanzi alla parola di Dio siamo posti dinnanzi a un colloquio perenne che supera gli spazi del tempo e diventa una provocazione continua per la nostra esistenza personale ecco perché concludo con quel riferimento a cui avevo fatto cenno in precedenza così con la lettura e lo studio dei libri sacri la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata il mio augurio cari amici è che la parola di Dio possa provocare in ognuno di noi uno spirito profondamente missionario la parola deve diffondersi tra le genti tra le strade delle nostre città deve entrare nelle nostre case lì deve trovare lo spazio dell'ascolto e dell'accoglienza perché porta con sé la salvezza alla fine sarà solo nella misura in cui riusciremo a permettere un vero e coerente contatto con la parola di Dio con una sua silua frequentazione che avremo svolto il nostro ministero noi infatti siamo solo diaconi di questa parola siamo suoi ministri non la possediamo siamo chiamati a renderle il servizio nella piena obbedienza fedele e libera grazie grazie a tutti grazie a tutti